Buongiorno, oggi parliamo di un'opera della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, un'opera che abbiamo appena finito di restaurare e in attesa che i musei riaprano la guardiamo attraverso un po' di immagini anche del lavoro svolto. Proprio entrando in Pinacoteca ci troviamo nella galleria di ritratti di famiglia dei Marchesi Villa che nel 6 e 700 furono i proprietari del Palazzo dei Diamanti. Fra questi ce n'è uno fuori serie per così dire in quanto raffigura il re di Francia Luigi XIII. In piedi, mano al fianco, il re indossa un'armatura a piastre molto vistosa dove ogni elemento, i cosciali, l'elmo, i guanti d'arme che vediamo appoggiati accanto, è decorato con dei gigli di Francia dorati. È la riproduzione di una vera armatura di Luigi XIII che si conserva ancora oggi al Musee dell'Armè di Parigi. Sopra la corazza pende la croce di Gran Maestro dell'Ordine dello Spirito Santo, uno dei massimi ordini cavallereschi che aveva istituito il re Enrico IV, padre di Luigi. E fra i tanti ritratti con cui potremmo confrontare il nostro, ne esiste uno di piccolo formato che raffigura proprio Enrico IV e che ci ricorda come siamo ancora nel pieno di quella tradizione iconografica del ritratto di Stato che si era consolidata nel secolo precedente, nel Cinquecento. Quindi abbiamo la stessa ambientazione in un interno, con il sovrano in piedi fra velluti rossi, con una posa e un'armatura del tutto simili. E però nel ritratto di Luigi notiamo che un vistoso colletto, morbido, tutto merlettato, ha preso il posto dell'antica gorgiera che stringeva il collo fin sotto al mento. E notiamo che la testa, che purtroppo è una delle parti che più hanno sofferto dal punto di vista conservativo e che oggi si presenta con dei tratti piuttosto schematici, si contraddistingue per il viso glabro ma dai lunghi baffi curati e per un'abbondante parrucca che era una novità. Sono tutti segni di un cambiamento verso un nuovo gusto nell'abbigliamento, un gusto sempre più ricercato, opulento, con cui la moda francese da allora in avanti sarà un punto di riferimento in tutta Europa. Ed ecco il modello del nostro dipinto, il ritratto di Luigi XIII incoronato dalla vittoria alata dopo il famoso assedio della città di La Rochelle che vediamo nello sfondo. Si trova oggi a Louvre ed è un capolavoro di Philippe de Champagne, che fu ritrattista ufficiale del sovrano e di altri uomini di Stato. Di questo ritratto sono note diverse derivazioni, tutte eseguite nella bottega dell'artista e oggi conservate in Francia, per esempio al museo Louis Philippe, allo Château d'Eux o in varie collezioni private, e a queste possiamo aggiungere dunque anche la nostra di Ferrara. E la ragione della sua presenza qui in Palazzo dei Diamanti è quasi certamente legata al fatto che i Villa, al culmine della propria scesa sociale, ebbero importanti carriere militari in Piemonte per i Savoia e il Ducato di Savoia era stretto alleato della Francia e addirittura al tempo di questo ritratto era governato dalla sorella di Luigi XIII, quella Cristina di Borbone che non a caso era detta madama reale e che viveva in quel palazzo che ancora oggi porta il suo nome, il Palazzo Madama appunto a Torino. Col passare del tempo si è persa cognizione di questo momento della storia dei Villa e anche il ritratto è andato incontro a un abbandono che lo ha fatto arrivare a noi in pessime condizioni di leggibilità. Era stato restaurato già più volte a causa di un degrado che era iniziato in tempi antichi e aveva subito degli interventi parziali che a loro volta poi si erano degradati. Il nuovo lavoro appena concluso è stato eseguito da Beatrice Miserocchi di Bologna. Oltre a una pulitura si è trattato soprattutto di smontare selettivamente le vecchie alterazioni, reintegrando le lacune ottenute e cercando nel complesso di uniformare una superficie pittorica fortemente irregolare, rispettando al massimo il dipinto originale di cui abbiamo recuperato gran parte di quella complessità che era stata soffocata, che era stata appiattita. Il risultato è un'opera di notevole impatto, con brani pienamente leggibili come l'armatura, bellissima, o parte del drappeggio di sfondo, accanto a zone meno fortunate come per esempio abbiamo visto il volto del re che non appare all'altezza del resto del dipinto ma che ci dà anche la misura dell'opera di Bottega, cioè di una delle diverse copie e rielaborazioni che uscirono dall'atelier di Philippe de Champagne per diffondere l'immagine del re che lui aveva fissato con il prototipo oggi a Louvre.